La maggioranza li chiama emendamenti d'urgenza all'opposizione legge Bavaglio. Due visioni diametralmente opposte sulla legge approvata in Consiglio regionale al termine di una lunga maratona notturna che, di fatto, istituisce lo strumento della fiducia. Una legge che, secondo i più critici, impedirà alle minoranze di presentare emendamenti qualora la maggioranza ravvisi i motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celer di un progetto di legge comportando la decadenza di emendamenti e subemendamenti. Il provvedimento, passato a maggioranza, con l'astenzione di SEL, ha mandato su tutte le furie Forza Italia e Cinque Stelle, che hanno parlato senza mesi termini di porcata. Il consigliere regionale PD, Camillo D'Alessandro, ha provato a smorsare i toni precisando che le opposizioni potranno comunque presentare emendamenti ma dall'altro lato della barricata le rassicurazioni sembrano essere cadute nel vuoto. Io non la chiamerei solo Bavaglio ma è una porcata fatta ai danni del Consiglio regionale, una porcata fatta nei confronti delle minoranze e una porcata fatta nei confronti della democrazia. Non è mai successo in questi 45 anni che un Presidente, un Consigliere, un gruppo consigliare si sia mai permesso di pensarlo solamente un articolo di genere. La maggioranza ha voluto forzare questo e credo che si sia reso conto però dei problemi che gli creeremo da adesso a quando questa legge avrà effetto definitivo perché dovrà fare tre passaggi, bisogna rispettare alcune procedure quindi arriveremo a settembre e chiaramente noi cambieremo atteggiamento se oggi Forza Italia è stata una posizione dura ma una posizione propositiva, una posizione costruttiva. A questo punto è chiaro che noi, come stiamo facendo oggi in Consiglio, non gli permetteremo di far passare nulla e siccome hanno capito che siamo in grado di farlo e lo hanno capito effettivamente, c'è stata una grande apertura da parte della maggioranza e soprattutto del Presidente Alfonso che si è impegnato a rivedere questa norma a creare un percorso parallelo per arrivare ad una soluzione diversa rispetto a quelle che hanno presentato. Noi che veniamo da una cultura presidenzialista non siamo appassionati al non risolvere e non mandare avanti i provvedimenti, chi ha vinto le elezioni è giusto che governi però non può farlo in questa maniera, è una forzatura che grida vendetta è una porcata, continuo a dirlo, che è stata fatta. Credo che la stessa maggioranza se ne resi conto e vediamo se intende veramente correggerla.